Grazie Viviana per aver organizzato questo evento di grande ispirazione e grazie di essere qui. E vorrei ringraziare tutti gli organizzatori. È l'incredibile clip di Rita Levi e Bontaccini che è una grande fonte di ispirazione. Bene, io parlerò e passeremo dallo stress alla bellezza e alla felicità. Che cos'è la bellezza? Di solito se qualcuno trova qualcosa bello lo dice ma spesso hanno difficoltà a spiegare perché e quali sono gli elementi in comune che ha qualcosa di bello. Lo scienziato Samir Zeki ha deciso che voleva trasformare questa domanda in qualche cosa che poteva misurare il funzionamento del cervello. Ha preso una serie di dipinti e ha chiesto alle persone di dare un ponteggio bello, brutto e chiaramente su una scala di valore. Quindi ogni persona ha avuto chiaramente la propria opinione sulla bellezza o meno del dipinto. Per esempio, questo dipinto è stato considerato bello mentre questo è stato considerato non bello altrettanto. Il che non vuol dire che abbia minori qualità artistiche perché il paragone non avviene sull'abilità dell'artista ma sul come è bello o meno è considerato il dipinto da chi la osserva. E poi ha mostrato alle persone una serie di cifre e ha paragonato le risposte al cervello tra le cose che hanno considerato bello e quello che loro hanno considerato brutto. Una volta che questo paragone sia stato realizzato ci si è concentrati per vedere se c'è una regione del cervello che è attivata unicamente da qualcosa che viene considerato bello. Perché i dipinti che ha mostrato hanno attivato regioni visive ma anche altre ma è stato interessato soltanto nella regione che specificamente viene attivata dal paragone tra bello e brutto. Questa è la stessa regione chiaramente con delle prospettive diverse quindi diciamo abbiamo una sezione mediale e poi abbiamo una sezione diciamo dall'alto. Questa regione che viene attivata dalla bellezza che si chiama corteccia mediale orbito frontale perché di fatto è sopra il nostro occhio all'interno. E' chiaramente frontale perché è avanti ed è una corteccia questa regione viene attivata specificamente da questo paragone bello brutto. Poi vediamo anche se questa regione è quella attivata dalla musica, da una musica bella rispetto a musica considerata brutta. Ha fatto sentire dei pezzi di 15 secondi, altri pezzi sempre di un'alta qualità artistica vengono considerati meno belli. Quindi abbiamo capito se c'è una bellezza musicale ed effettivamente questa regione attivata è molto simile a quella attivata dalle immagini, dai dipinti. È stata ulteriormente attivata più il pezzo è stato considerato dall'ascoltatore come piacevole, bello. Quindi questa è stata definita la regione della bellezza nel cervello che viene attivata da un senso di bellezza ed è questa la regione, la regione della bellezza. Chiaramente questa è una prospettiva diciamo di sezione. Se pensate che qualcosa è molto bello questa regione viene attivata. Possiamo prendere il suo concetto e allargarlo. In che modo possiamo chiederci quali sono gli altri stimoli che attivano questa regione? Se cambiamo la definizione di bello come determinata dal nostro cervello, cioè la bellezza viene definita da coloro che quindi attivano questa regione. Bene, quindi cosa altro attiva e stimola questa regione? Bene, sono molti questi elementi e hanno qualcosa in comune. Per esempio l'attività di questa regione viene aumentata da una visione di un avviso felice rispetto a qualcuno con un'espressione neutra o triste. Quando qualcuno ci guarda con un bel sorriso questa regione viene attivata. A volte pensiamo anche che chi sorride è più bello, ma non ci si limita a questo. Se guardiamo quello che avviene alle persone quando partecipano a un gioco, in cui ci si aspetta di vincere dei soldi e poi si raggiunge una vincita maggiore, si è felici e questa regione viene attivata, eccitata. Quindi quali sono questi elementi che eccitano e attivano questa regione? Se ampliamo la visione delle regioni e ci chiediamo di che cosa fa parte questa regione, si scopre che questa regione, questa regione orbito frontale corticale, fa parte di un sistema del cervello che si chiama il circuito della gratificazione, che consiste di varie regioni interconnesse che vengono attivate quando vogliamo che qualche cosa di piacevole venga ripetuto. Quindi fa parte del circuito di gratificazione e ci eccita a ripetere un'esperienza, a cercare la ripetizione di quello che abbiamo appena sentito come piacevole. E questo viene spiegato da una prospettiva evolutiva. Perché abbiamo il circuito di gratificazione? Quindi chiaramente viene attivata dall'acqua, al cibo, al sesso e pensiamo a questo sistema come qualche cosa di fondamentale da un punto di vista evolutivo perché ci porta a ripetere le azioni che prolungano la nostra esistenza e personale e a livello di specie, di prossime generazioni, perché chiaramente propagano dei geni che ci aiutano a sopravvivere. Ci sono anche delle gratificazioni condizionate. Per esempio abbiamo imparato ad apprezzare i soldi. Per esempio un feedback positivo e il viso sorridente eccita attiva questa regione e questo sistema. Ci aiuta questo a definire che cosa è il bello? È in nato questo senso? Ricordatevi che il sistema di gratificazione viene attivato tanto da, come dire, una ricompensa innata e non la bellezza è un senso di qualcosa di innato e se non lo è come lo impariamo. Quindi ci sono molte opinioni rispetto a questo concetto. Una è quella che io chiamo un'opinione romantica che ci sono i cosiddetti rapporti aurei che da qualche parte vengono scritti nei nostri geni che ci fanno sentire che queste proporzioni sono belle perché i rapporti sono quelli giusti. Ma col passare del tempo diciamo che siamo diventati un po' meno romantici. Cosa voglio dire? Voglio dire che la bellezza risiede nell'occhio di chi osserva. 200-300 anni fa quello che si pensava bello non è necessariamente quello che pensiamo oggi come qualcosa di bello. Le cose cambiano. Quindi che cosa hanno in comune tutte le cose che nei secoli abbiamo considerato belle? Vorrei suggerire che quello che hanno in comune fa parte del sistema di gratificazione. Cioè quello che presenta un vantaggio evolutivo quindi è una segnalazione onesta di ciò che è giusto o buono a livello evolutivo. Vi faccio un esempio. Per esempio abbiamo un gradimento dei visi lisci. Diciamo sì, bello. Ma se parliamo da un punto di vista evolutivo questo vuole dire che questi sono visi che sono meno corrotti dai parassiti. Ed è una buona prova che la persona con questo viso resiste meglio all'attacco dei parassiti. E questo va bene per l'accoppiamento va bene per la propagazione dei geni. Quindi siamo attratti a quei tratti del viso che sono associati alla resistenza ai parassiti. Il viso è liscio e quindi noi pensiamo che sia bello. Quindi è un buon segnale di resilienza da un punto di vista evolutivo. Se noi guardiamo più in là a quei tratti che ci piacciono ci sono molti studi. Una è la simmetria. Chiaramente sono foto ricostruite. Modificando con un computer i visi abbiamo chiesto alle persone quale delle due foto sono preferibili. Ebbene, ovviamente quella simmetrica è quella scelta. C'è una preferenza per la simmetria. Anche qui. E' bello questo? Non lo so. Un po' sì e un po' no. Mi chiedo quali sono le aree del mio cervello che vengono attivate da questa musichetta. La preferenza per la simmetria è generalizzata. Addirittura come dire non è una preferenza occidentale e culturale. Viene trovata anche nei raccoglitori africani o addirittura nelle scimmie. E questo viene calcolato da quanto tempo si passa a osservare alcune immagini e più tempo viene passato a osservare delle immagini dove c'è la simmetria. bene qual è il vantaggio dei visi simmetrici ancora una volta si scopre che ci sono dei vantaggi evolutivi in questo. Un'altra caratteristica che è estremamente interessante è la piacevolezza delle medie di ciò che è medio. Spesso quando passiamo di medio noi passiamo a qualcosa di mediocre ma io intendo dire la somma di tutte le esperienze simili che abbiamo sperimentato qual è il vantaggio evolutivo di questa somma di questa commissione vi do un esempio per esempio questo viene preso da un esperimento sono tre facce sono molto simili sembrano simili ma sono la media di visi simili quindi qual è quella che ci piace di più? Quindi la A è una composizione di tre immagini nove aspetti più o meno altri quindi quella che ci aspettiamo che sia più piacevole e considerata più bella è quella che comprende la media di tutti gli altri tratti purtroppo non mi compaiono le lettere che volevo farvi vedere ma comunque un altro esempio ancora una volta vedete la riga sopra e la riga sotto sono due donne due uomini di diversa etnia ma quello che succede e la differenza è il numero di tratti medi che vengono utilizzati per costruire queste immagini quali vi piace di più? Non ve lo chiedo chiedetelo a voi stessi ma l'aspettativa ve la dirò tra un attimo sono medi di cinque visi e mentre la riga di sotto è una media di venti visi quindi sono ovviamente complementari quindi un po' più di questo un po' meno di quello rispetto alle diverse caratteristiche eccetera eccetera perché sono medie di molti visi e quindi ecco qui secondo voi qual è stato quello considerato più bello quella la riga di sotto quindi tutto questo ha un vantaggio rappresenta un vantaggio evolutivo che sì perché ci sono due vantaggi fondamentali innanzitutto questo vuol dire che noi abbiamo una preferenza per come dire tratti composti a cui siamo stati esposti più di altri pensate a che cosa siamo più esposti pensate ciò che ha presentato un vantaggio evolutivo quindi più spesso sono più abbondanti quindi è più probabile che noi li abbiamo incontrati che ci siamo stati esposti quindi la somma di caratteristiche a cui siamo stati esposti rappresenta una media che noi preferiamo quindi noi preferiamo quei tratti che sono quelli che rappresentano un vantaggio evolutivo quindi non c'è bisogno di avere delle preferenze innate tutto quello di cui c'è bisogno è una preferenza per la media per la somma di tutto ciò a cui siamo stati esposti perché ciò che è un vantaggio per noi probabilmente cambia nelle diverse regioni nei tempi ma quello che hanno in comune è che le caratteristiche più abbondanti sono necessariamente quelle che resistono alle sfide dell'ambiente quindi questo è un meccanismo interno di apprendimento statistico che ci permette automaticamente ad adeguarci a delle condizioni diverse dell'ambiente e quindi scegliamo quelle che sono di maggiore vantaggio e sono più resilienti nella nostra regione e nel nostro tempo quindi diciamo preferendo ciò che è statisticamente più comune noi preferiamo dei visi familiari ma soprattutto la somma delle caratteristiche fisiche che sono state più resilienti che troviamo più comunemente quindi questa è una strategia benefica da punto di vista evolutiva quelle che ci piacciono quelle e quei visi che vediamo più comunemente questo vuol dire che l'idea di bellezza non è il viso il viso a cui siamo stati più esposti ma la somma accumulativa accumulativa di tutte le fese di tutte scusate le facce che abbiamo visto i visi che abbiamo visto più vediamo visi e più la media ci fa scegliere ciò che preferiamo quello che consideriamo bello cioè praticamente la somma accumulativa delle caratteristiche che hanno permesso a tutti questi visi di sopravvivere quindi la bellezza produce piacere attiva il circuito della gratificazione e vogliamo averne di più e questo spiega la nostra attrazione come dire quasi compulsiva ai bei visi perché questo è opera del circuito di gratificazione e fa parte chiaramente di altri tipi di dipendenze ma questo tipo di gratificazione governa la nostra vita quello che facciamo perché ha un vantaggio evolutivo presenta un vantaggio evolutivo perché tipicamente siamo attratti e come dire ci attiviamo nel cervello da ciò che promuoverà la nostra resistenza evolutiva resilienza evolutiva ultimo punto quindi noi cerchiamo i stimoli che già conosciamo a seguito di una esposizione quindi la bellezza è dipendente dalla cultura in una modalità che ci porta a preferire ciò che è evolutivamente buono per noi quindi cercate però di non essere troppo dipendenti da questo rispetto a quello che abbiamo visto cercate di stare in mezzo alla curva però e non andare agli estremi è una sfida no? cerchiamo di fare questo grazie 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 molte anche per il timing perfetto abbiamo qualche istante per le domande buongiorno buongiorno c'è qualche evidenza rispetto alla possibilità di perdere la percezione della bellezza per esempio a causa di una lesione della corteccia prefrontale e questa è la domanda ok allora se noi perdiamo la regione prefrontale abbiamo un po' di difficoltà quindi non so la bellezza penso che faccia parte del pacchetto ma insomma credo che ecco uno dei punti che sottolineavo è che si parlava di una regione specifica legata alla bellezza che è cruciale nella valutazione dei benefici non soltanto diciamo tutto quello che ha a che fare con la gratificazione quindi se questa regione viene distrutta allora ci saranno delle difficoltà anche nel valutare per esempio gli stimoli tra cui ovviamente quello legato alla bellezza c'è una domanda lì in che modo il background culturale in che modo il background culturale può influire sulla percezione della bellezza allora allora questa è una domanda complicata perché dico questo in base a quello che ho detto nel mio contributo nel mio intervento le diverse culture hanno diversi modelli di bellezza che dipendono dalle esperienze delle persone quindi ci sono persone che magari magari hanno un ideale di bellezza che è la somma per esempio delle facce che ho visto che hanno magari dei colori specifici che hanno magari delle caratteristiche somatiche specifiche allora posso considerare questa come risposta univoca no non credo nel senso che nel momento in cui una persona mi chiede perché ci piacciono sono le bionde ma come facciamo a cosa inseriamo in questo concetto allora forse le bionde o il biondo forse non era magari un colore che hai visto in abbondanza quando eri giovane e quindi magari ci sono persone che magari crescono in un contesto in cui il biondo non è il colore che si vede più frequentemente quindi io non ho una domanda in assoluto diciamo una risposta in assoluto a questa domanda però forse ne ho due anzi una allora se ti piace qualcosa ne hai diciamo in abbondanza perché comunque diciamo hai la possibilità di incontrare in strada volti di modelle oppure hai tutto quello che ti viene da internet e quindi questo ha un'influenza sulle tue preferenze ora ovviamente è una cosa che ha a che fare anche con le culture perché ovviamente le persone possono accedere ad internet e in effetti possiamo vedere magari le top model ma abbiamo anche la possibilità di fare un esperimento per esempio ci sono vi ricordate nella mia presentazione c'erano due volti che rappresentavano due modelli diversi qual è il punto? è che magari ci sono alcune alcune cose che magari indipendentemente dalla foto ci colpiscono e quindi questo può influire sulla nostra preferenza ecco perché per esempio le aziende di moda in questo momento si stanno basando su questo approccio e stanno introducendo anche una differenziazione anche nell'ambito dei modelli che presentano pensate per esempio alle case di moda pensate adesso alla varietà di tipologie di modelle è molto diversa dal passato quindi in questo modo noi possiamo influire sulle preferenze e forse ora non so se questo meccanismo possa essere considerato in termini assoluti però è un modo diciamo così per influenzare le preferenze grazie a tutti